è il momento però di entrare nel vivo della serata giusto Manuela? Esatto, la prima parte diciamo così della serata. La prima parte della serata è dedicata a un format, il format esclusivo CEO Summit, il titolo che speriamo possa essere di ispirazione per tutti perché l'abbiamo voluto intitolare Leadership is Hard, le sfide di un mondo in continuo cambiamento. Invito dunque sul palco i relatori che accompagneranno per questa prima fase. Andrea Alessandrini, amministratore unico di Novento SPA. Antonio Gigliotti, fondatore e direttore di Fiscal Focus e Norbert Lommer, direttore generale di Unicredit Alliance Assicurazioni. Perfetto, grazie e benvenuti e grazie per essere qui. Avete tutto il microfono sulla vostra poltroncina così che possiamo cominciare. Allora, come detto CEO Summit è un nostro format esclusivo. Noi abbiamo voluto un po' sempre e lo facciamo ogni giorno. Documentare e testimoniare il cambiamento nel mondo del lavoro e del business, però è bene farlo sempre con le voci dei protagonisti perché altrimenti non si portano degli esempi concreti. Invece a me personalmente, ma in generale insomma nelle nostre trasmissioni tendiamo sempre a mettere questo perché è un valore aggiunto, soprattutto in un momento in cui appunto il mondo del lavoro è cambiato. Leadership is hard, le sfide di un mondo in continuo cambiamento. Allora, io intanto risaluto, visto che li ha chiamati il collega Cristian Toscano, i partecipanti a questa piccola tavola rotonda che poi vuole essere un momento di confronto più che tavola rotonda, un modo per raccontare la vostra esperienza. Andrea Alessandrini, Novento amministratore unico, Novento SPA opera nel settore dei serramenti ad alte prestazioni e poi abbiamo Antonio Gigliotti, fondatore e direttore di Fiscal Focus, un servizio di aggiornamento e formazione economico fiscale su tutto il territorio nazionale e poi Norbert Lommer, direttore generale di Unicredit Allianz Assicurazioni, compagnia di banca assicurazione partecipata da Allianz e Unicredit che opera nel ramo da anni, dal 1987. Allora, io partirei con una domanda un po' per rompere il ghiaccio ma che già ci fa entrare nelle realtà di ciascuno dei nostri ospiti. Andrea Alessandrini, Novento, la vostra esperienza, le sfide, do un po' di parole chiave. Ecco qui. Ah, qua ce n'è un altro. Allora, guardi, lo passo a lei così ne avete uno per uno. Perfetto. Parole chiave, la vostra esperienza, le sfide, il vostro approccio al cambiamento. Questo cambiamento che cosa è significato per voi? E soprattutto quali sono i fattori che in un momento così cruciale hanno influito sulla crescita dell'azienda. Sì, buonasera a tutti. Prima di tutto vorrei fare un piccolo inciso su chi è Novento, dove è collocata Novento. Certo. E questa realtà cresciuta proprio attraverso le opportunità degli ultimi anni ad Alghero, nella famosissima riviera del Corallo, che è famosa per tutto tranne che per l'industria. Abbiamo questa realtà che negli ultimi cinque anni è cresciuta tanto proprio per le opportunità per il cambiamento e che forse siamo riusciti a cogliere le opportunità del mercato. Il nostro è un mercato legato all'edilizia. Oggi contiamo circa 300 addetti alla produzione e quindi è una realtà che ha scalato molto velocemente il ranking e la classifica del nostro settore. Oggi credo che è posizionata tra le prime tre in Italia nella produzione di serramenti e pensare che escono dalla bellissima Sardegna oltre 70.000 finestre all'anno, già fa strano a me. Quindi credo proprio che siamo riusciti a cogliere le opportunità che questi ultimi anni, che il cambiamento ci ha costretto certe volte e ci costringe tutti i giorni a ragionare su quello che è una visione prospettica delle nostre aziende. Quindi non ragioniamo almeno, io ho la fortuna di non dedicare tanto e troppo tempo al continuing, ma ho la fortuna, visto che demando tanto ai miei collaboratori, di pensare, di ragionare su quella che può essere una visione prospettica della nostra realtà. Quindi le opportunità che oggi abbiamo in qualche maniera messo a frutto sono anche, ahimè, un retroscena della pandemia che ci ha portato ad avere una spinta molto importante per la riqualificazione energetica del nostro territorio. Quindi il riuscire a fare impresa, crescere così tanto nella gestione anche delle risorse umane. Ero qua quattro anni fa per il riconoscimento di CEO dell'anno nella valorizzazione delle risorse umane e ho continuato su questa strada. Quindi riuscire a valorizzare e utilizzare tutto quello che il welfare oggi ci dà come possibilità. In quattro anni un'accelerazione importante. In quattro anni un'accelerazione importante. Credo che tutto ciò che il mercato ci dà come possibilità di crescita noi riusciamo a coglierlo e quest'anno siamo qua per in qualche maniera rappresentare l'evoluzione tecnologica della nostra azienda. Quindi tutto quello che è Industria 4.0. Si parla di Industria 4.0 da tre anni. Noi abbiamo cercato di digitalizzare l'azienda già dal 2015 e non era ancora di moda questo termine. Quindi cerchiamo di cogliere tutto quello che la tecnologia ci mette a disposizione per continuare a crescere. Certo. Ottimo. Poi torno da lei e andiamo un po' più nel dettaglio. Però Antonio Gigliotti insomma si può dire che questo sia un momento storico? Perché poi cerchiamo anche di definire cosa significhi momento storico. Però chiedo anche a lei fondamentalmente Fiscal Focus di raccontare la vostra esperienza le sfide che le sono rimaste più anche dentro e che hanno caratterizzato appunto questo momento storico. Cosa sta offrendo questo momento storico al vostro business? Noi diciamo che è un'esperienza singolare perché ho appena ascoltato e sono veramente contento quando sento che alcune realtà non nascono a Milano, a Bologna, a Torino ma in realtà decentrate che riescono a dare anche il loro meglio. Noi siamo una realtà che è nata giù in Calabria. Io ho fatto circa 25 anni di conferenze in giro per tutta Italia, ho girato tutti gli ordini d'Italia e nel contempo avevo la sede piccola perché alla fine poi ritornavo il fine settimana giù in Calabria e dico ma perché non fare anche un servizio di informazione oltre che formazione sul territorio? E così è nato quindi a Padova e una sede giù in Calabria. Guardi le dico fare impresa giù in Calabria per ventimila ragioni non è certamente come farlo a Bologna o a Milano per tante ragioni che non sto qui a spiegare ma certamente quindi come qualità di servizi, di vita, di tutto e allora guardi riuscire in una terra difficile per tanti ostacoli non soltanto statali della burocrazia ma anche ambientali e guardi che mi rincuora veramente perché noi possiamo stare a Milano piuttosto che a Torino perché noi operiamo su tutto il territorio nazionale non abbiamo agenti non facciamo tutto online quindi abbiamo un gruppo fortissimo di marketing quindi che lavora e vede sentire che ad Alghero quindi producono tanti infissi o in Calabria per me è motivo di orgoglio e di soddisfazione perché le garantisco fare impresa giù in Calabria nel meridione cosa completamente diversa da farla al nord e aggiungo qual è stata una delle sfide? Beh intanto una sfida quotidiana guardi le faccio un esempio noi siamo abbastanza forti nell'online nelle dirette e guardi quando lei deve fare una diretta dove sono centinaia di persone collegate che hanno pagato e tu hai la paura che ti cade la linea e quelli collegati non riescano a vedere ed è una sfida giornaliera non è soltanto epocale di un momento anche perché se non si riescono a collegare casca tutto il resto che ha pagato ne frega mica tanto dove ti trovo e poi diciamo che il grande l'abbiamo dato in questi due anni di pandemia noi sostanzialmente cos'è che abbiamo fatto io con un gruppo di tre ragazzi abbiamo fatto il periodo pandemico chiusi praticamente all'interno della redazione e noi eravamo in diretta gratuitamente anche perché chi o volendo non volendo eravamo obbligati a stare a casa sul divano no quindi c'è gente che non ha mai utilizzato il cellulare in modo così forte come quel periodo perché cosa o guardavi la televisione o eri la finestra o guardavi il cellulare beh noi abbiamo fatto dirette guardi per due anni dopo che parlava conte no quindi dove sorgevano i dubbi le perplessità quindi le ansie noi intervenivamo anche con dei relatori di un certo spessore e cercavamo di spiegare quello che non aveva spiegato in due ore di relazione e questo ci ha dato tantissimo perché abbiamo aumentato in modo esponenziale la nostra presenza sul mercato dirette gratuite cioè praticamente noi collegati a tutte le ore tutti i giorni avete potuto anche mettere a punto effettivamente quello che poi sarebbe diventato un vostro punto voglio dire importante del business l'esperienza vi ha portato a il punto l'altro punto di forza nostro è la squadra dei ragazzi noi l'ottanta per cento dei ragazzi le nostre risorse hanno dai 20 ai 30 anni quindi veramente giovani e per uno le assicuro che vive giù è una speranza e sono ragazzi veramente in gamba che meritano quindi la partecipazione a prescindere dalla quindi da come sarà la serata l'evoluzione è una vittoria per noi per la mia terra e per tutta l'italia ok ecco è già nella sua spiegazione sì grazie grazie un applauso ci sta anche perché comunque fortunatamente possiamo anche mettere in luce quelle che sono state le difficoltà iniziali legate a un momento di sbandamento per tutti no però poi che si sono trasformate in opportunità perché a volte quello che dicevamo prima se non si portano esempi concreti sembrano cose dette frasi fatte cose senza senso invece in realtà poi abbiamo visto che si sono trasformate anche in pratica e stavo dicendo dalle parole di Antonio Gigliotti così passo la parola a Norbert Lommer Unicredit Allianza Assicurazioni si nota proprio come è cambiato l'approccio alle situazioni no questa è l'altra parola chiave che mi sento di portare all'attenzione di chiedere a lei qual è stato invece il vostro approccio al cambiamento fondamentalmente la domanda è sempre la stessa però aggiungendo sempre di più dei tasselli che ci fanno capire come è cambiato anche il modo di gestire le varie le varie situazioni tanto buonasera a tutti premessa non sono italiano sono tedesco americano naturalizzato in america vivo qua da otto anni in italia e sono fiero di vivere qua ho speso tutto il mio tutta la mia vita lavorativa nel gruppo Allianz sicuramente molti di voi conoscono permettetemi due due parole sul gruppo e poi rispondere alla domanda il gruppo Allianz è leader mondiale nell'assicurazione siamo presenti su tutti i rami quindi tutte sia la parte retail voi quando succede un evento che ahimè potrebbe essere doloroso ci dovrebbe essere un assicuratore che copre gli eventi noi abbiamo un fattorato di 140 miliardi di euro 145 milioni di 145 mila scusatemi dipendenti quindi siamo presenti in tutti i mercati del mondo allora l'italia l'italia per noi abbiamo varie società del gruppo io opero attualmente come direttore generale nel gruppo unicredit allianz assicurazioni quindi la joint venture tra unicredit e allianz è una joint venture molto molto importante sfide sfide adesso di quello che vedo anche vedendo l'estero la prima cosa come società noi il bank assurance quindi la vendita attraverso i sportelli bancari attraverso la banca è una sfida ma non è una sfida per noi come assicuratori e cercare di riuscire a dare un prodotto un valore un qualcosa che alla fine aiuti a qualcuno noi vediamo eventi tragici eventi tragici per esempio c'è stato qua l'incendio a Milano della torre sicuramente quasi tutti qui se lo ricordano abbiamo avuto persone dentro che hanno perso tutto ripeto hanno perso tutto alcuni scusate unfortunately perché non erano assicurati alcuni avevano una polizza assicurativa non non adeguata e alcuni per risparmiare hanno cancellato la polizza quando faccio una domanda al tavolo con gli amici la prima domanda chiedo così per scherzare chi è che siete assicurati chi guida l'automobile purtroppo se lo deve comprare è obbligatoria quindi e lì vedo subito ma il nome il marchio pochi se lo ricordano poi quando inizia a venire il tema ma cos'è che copri cos'è che hai perché perché faccio le domande per cercare di aiutare a capire perché voi comprate un prodotto di fatti noi comprate un prodotto oggi che è una promessa del domani no non è come un vino che io compro oggi lo consumo è un benessere io compro una polizza sperando lasciatemelo dire danni sperando che non succeda mai nulla certo però se dovesse succedere qualcosa l'importante che ci sia o che l'assicuratore qualsiasi che sia che ci sia abbiamo maturato maggiormente questa consapevolezza di della protezione secondo lei in questo periodo di emergenza sì e no sì e no noi vediamo dei dati drammatici drammatici sul mondo salute durante l'attività del covid tante persone che dovevano fare i controlli medici non sono andate avevano copertura e non lo hanno usato quindi sì e no la sfida per noi quindi come leadership come sfida è cercare di passare di aiutare a capire quali quali rischi possiamo aiutare a coprirvi molti di voi avranno un appartamento una casa cercare di capire ok in casi di eventi estremi e non è l'incendio al fuoco ma altri sono coperto domani mattina mi ritrovo i soldi con cui posso ricostruire la casa e l'appartamento cosa potrebbe succedere certo bisogna essere lungimiranti infatti il secondo giro di domande per i nostri relatori è proprio questo cioè riparto da Andrea Alessandrini cosa si aspetta per il futuro della sua azienda intanto perché è quello a proposito di lungimiranza ma a partire dalla situazione attuale dell'Italia cioè quello che diceva anche appunto Norbert Lommer quanto abbiamo imparato quindi in che situazione ci troviamo e come guardare da adesso in avanti ecco questa penso che sia insomma la domanda che sia più importante avere in mente alla quale occorre dare necessariamente una risposta per quanto c'è possibile prego sì le esperienze fatte sicuramente fanno parte del nostro know-how del nostro bagaglio di culturale la cosa che ho visto che sta migliorando tantissimo e io di questo ne sono orgoglioso anche di essere in Sardegna in questo momento e il rapporto che l'imprenditoria ha con le istituzioni cioè mi sento non solo orgoglioso ma oggi abbiamo ospiti sono venuti in rappresentanza dell'azienda che rappresento per esempio l'assessore al lavoro la quale ringrazio Alessandra Zedda infinitamente l'assessore al bilancio e alla programmazione il sindaco di Alghero è qua con me oggi a supportare la mia azienda ecco il cambiamento forse è anche questo quello di avere le istituzioni vicino e di parlarci cercando di capire che cosa si può fare assieme per migliorare ma soprattutto in questo momento per cavalcare l'onda visto che stiamo ripartendo ecco il rapporto imprenditore-istituzioni e non sto parlando imprenditori-politica è un'altra cosa imprenditori-istituzioni credo che sia la chiave di svolta di questo paese certo devono assolutamente dobbiamo assolutamente fare a quattro mani quello che una volta invece si faceva un po' a camere stagne quindi oggi mi sento anche più tranquillo nel piano di investimento che abbiamo appena depositato 2022-2026 avendo le istituzioni vicine cercando un dialogo proponendo intavolando quelle che possono essere delle esigenze di noi imprenditori poi alla fine il rovescio della medaglia è abbastanza non è che ci può nascondere dietro un dito oggi il mondo è talmente veloce che se l'imprenditore dice facciamo così aiutiamoci a vicenda e in cinque anni creiamo 300 posti di lavoro nel manufatturiero vuol dire io ci metto la faccia certo e adesso ripresentiamo un ulteriore piano di investimento tra tre anni 600 posti di lavoro non lo dico lo devo fare e se ecco il rapporto istituzioni imprenditoria continua sotto questa lunghezza d'onda potrebbe essere il momento giusto per essere contenti di cogliere l'attimo perché la ripresa comunque è in atto è certo anche perché si deve remare nella stessa direzione spesso facciamo troppa distinzione tra pubblico privato che è un po' il concetto che lei ha esposto e soprattutto appunto non c'è proprio questa sinergia questa rete tra istituzioni e aziende cosa che invece è necessaria assolutamente sì manca sempre qualche pezzettino e diventiamo meno attrattivi rispetto perché si lavora paralleli invece in questo caso ogni tanto un punto d'incontro lo dobbiamo avere ma questo è un punto importante perché appunto altrimenti si si fa se si magari poi il nostro orticello è bello però rimane lì cioè non si amplia e quindi poi non si fanno quei passi in più che invece il momento storico attuale richiede Antonio Gigliotti stessa cosa il vostro insomma le sfide più imminenti se c'è qualcosa che magari state gestendo proprio nell'immediato e anche quali sono le vostre aspettative per il futuro alla luce anche di quello che raccontava insomma Andrea Alessandrini guardi io voglio partire proprio dalle riflessioni che condivido ma che sono leggermente controcorrente nel senso è giusto quindi che vi sia una certa collaborazione una certa sinergia tra istituzioni e azienda è fondamentale il problema purtroppo e questo ce lo dobbiamo dire quindi immagino che a volte può non piacere io guardi sono vent'anni che ci ho sempre messo la faccia quindi a volte nei diversi interventi dibattiti a volte mi è costato anche quindi la presenza in tv perché quando dice alcune cose scomode molto probabilmente possono non invitarti più il problema è questo siamo assolutamente d'accordo che ci vuole una sinergia tra istituzioni e l'azienda ma l'azienda non deve avere come ostacolo l'istituzione cioè la pubblica amministrazione oggi in alcune circostanze è di ostacolo all'azienda la burocrazia la non semplificazione che addirittura pesano di più della montare delle tasse ma lei mi lasci dire ma è mai possibile che un'azienda deve sprecare ore e ore di lavoro per capire non quanto pagare come pagare cioè è una cosa che è inimmaginabile cioè la pubblica amministrazione e le istituzioni devono essere a fianco per l'azienda e guardi noi che viviamo e mangiamo fisco tutti i giorni le garantisco che non sono stati capaci neanche i due anni di pandemia ad avvarare delle norme chiare e semplici che potessero consentire agli imprenditori quindi di poter sopravvivere quindi quali sono le aspettative che possa veramente parlarsi di semplificazione perché è quello che ha necessità l'azienda l'impresa per poter progredire poi benvengano di queste esperienze che in territori difficili riescono anche a programmare una certa occupazione ma continuo a dire a denunciare tutti i giorni che dobbiamo avere a fianco l'amministrazione la pubblica amministrazione deve essere a fianco dell'azienda per entrambi portare il successo che è quello dell'aumento dell'occupazione purtroppo quello che ha detto lei è vero a volte ci complichiamo la vita non riusciamo a fare passi in più proprio perché ci blocchiamo in situazioni che potrebbero essere ormai è statisticamente accertato che per l'azienda non è soltanto il peso delle tasse guardi noi a volte fanno delle norme per agevolare quindi l'ingresso in Italia di imprese ma secondo lei io che sono un professionista potrò mai consigliare ad un'azienda se veramente quindi stimo quell'azienda veri in Italia ma no ma perché è difficile tu oggi programmi un qualcosa ma come fai a programmare se nel corso d'anno ti cambiano le cose con effetto retrativo è impossibile e le aziende quindi prima di andare a investire guardano bene oggi avrei tanti dubbi a consigliare purtroppo ahimè da italiano a venire in Italia perché questa è la situazione e questo è il peccato infatti perché poi come si fa ad essere lungimiranti cosa che invece è necessaria se ci sono queste condizioni beh Norbert Lomer forse appunto anche se poi adesso ha esperienza in Italia però forse proprio perché non è italiano su questo può aggiungere qualcosa effettivamente la difficoltà c'è lo sappiamo speriamo che le cose possano cambiare speriamo che una situazione d'emergenza come quella che abbiamo vissuto ci abbia insegnato qualcosa ma insomma chiedo anche a lei banalmente quali sono le aspettative per il futuro anche su quello che ha sentito rispetto alla situazione in Italia al modus operandi italiano che spesso fa passare la voglia di operare scusate lo dico anch'io senza problemi però insomma cerchiamo di superare questo aspetto prego allora io vi chiedo tutti qua veramente tutti di non essere troppo critici verso istituzioni verso la propria società cioè l'immagine e questo ve lo dico lo so sia dall'esterno che dall'interno questo è molto importante l'Italia per esempio per il gruppo Allianz Allianz Italia è il secondo gruppo più importante che abbiamo al mondo c'è serietà competenza tecnica c'è un riconoscimento unico nel gruppo che è un gruppo tedesco lasciatemi dire tutti i difetti che abbiamo noi tedeschi viene riconosciuto quello che dall'esterno arrivando noi qui la prima cosa che facciamo è critichiamo noi stessi io vi dico se voi avete vissuto Stati Uniti Germania Francia Spagna partendo dal sistema sanitario all'educazione al costo della vita qui non solo non si vive bene ma ci sono dei servizi ci sono ci sono dei servizi che gli americani si sognano e i tedeschi quindi la sfida veramente che io ho verso gli azionisti poi anche tedeschi è quello di continuare a credere nell'Italia a investire e quindi però è molto difficile se ci autocritichiamo dobbiamo essere a testa alta perché le cose qui vengono fatte molto bene con serietà veniamo riconosciuti qua purtroppo all'estero ancora con le cose degli anni 60 la pizza la musica ma che non è vero c'è un'imprenditorialità qua c'è una creatività che insieme alla parte ingenerizzazione che è fenomenale abbiamo medici io carissimi medici che sono a livello mondiale riconosciuti Stati Uniti sono tutti italiani quindi cercate veramente veramente perché vi fate autogol ci facciamo autogol di criticare continuamente noi stessi non è così è vero noi non siamo assolutamente sponsor di noi stessi questo è vero e se da un lato magari a volte può aiutare a crescere c'è quello di fare un po' di autocritica ma non ne facciamo troppa cioè è vero e soprattutto guardiamo si dice sempre siamo esterofili pensiamo sempre che all'estero vada meglio per carità tante cose all'estero vanno meglio però mi fa piacere sentire che invece tante cose in Italia sono più avanti anche se vogliamo questa è la parola più giusta e davvero la ringrazio perché a volte purtroppo ci arrotoliamo in un meccanismo veramente vizioso che non ci permette di veramente capire che invece su tante cose possiamo competere come con altri paesi lei ha citato la Germania a volte noi diciamo beh ma la Germania è ovvio che sia più avanti di noi rispetto a tanti magari invece no basta solo conoscere di più quindi in chiusura direi che è l'ottimo auspicio prego prego termine poi vi saluto voglio dire un'altra cosa che fa riflettere scusate una cosa che fa riflettere qui ho notato in Italia in otto anni c'è solo una cosa che unisce tutti quando gioca la nazionale dicono il calcio infatti quando gioca la nazionale quello veramente unisce tutti tutti dai paesini città il coso tutto il resto è vero uno contro l'altro uno è più bello è più brutto del coso ecco questo è difficile vederlo in altri paesi quindi invece vedendo non capisco invece quando i tedeschi vedono l'Italia che vince lasciamo stare poi i tedeschi soffrono dentro non è il coso vedono questa unità così forte perché non farlo su altre cose vero allora mi pare che effettivamente noi abbiamo questa propria inizio di piangerci addosso un po' all'italiana non lo so un po' provincialismo proprio che ce l'abbiamo ce l'abbiamo ma il pensare di riuscire io non ho fatto nulla se non prendere in considerazione io non credevo di riuscire non avrei mai creduto di riuscire a fare un'impresa un'industria ad alghiero di 300 dipendenti che hanno è un manufatturiero con una tecnologia importante all'interno ad alghiero non c'è niente l'azienda di alghiero ci sono forse prima di noi c'erano le pecore giustamente le abbiamo un attimino oggi c'è un'azienda io credo che ci vengono a visitare anche fornitori clienti esteri e ce la io credo che ce la invidiano i serramentisti spagnoli che siamo proprio di fronte ci vengono intanto a visitare e rimangono veramente con gli occhi colpiti da quello che c'è ad alghiero nell'azienda industriale un'azienda che ha una tecnologia all'interno certo che se non abbiamo la manovalanza specializzata la dobbiamo formare noi non dobbiamo dire ma non vado ad alghiero perché non c'è nulla cioè dobbiamo in qualche maniera capire interpretare quello che le opportunità l'Italia credo che le dia certo Gigliotti possiamo partire questa sera per questo camere 30 secondi spettano la camere perché io ho ascoltato con dovuta attenzione però mi consenta all'ultimo intervento che ho ascoltato ho riflettuto guardi parlare da grande azienda è un discorso ma parlare da piccole e medie aziende le dico che è una situazione completamente diversa e se io parlo di criticità non è perché voglio piangermi perché non mi pianga assolutamente ho fatto impresa giù in Calabria il problema è che noi ci aspettiamo e quando si parla in modo costruttivo non è tanto per criticare perché si potrebbe fare tanto di più perché le piccole e medie aziende che rappresentano la vera colonna portante dell'intera nazione è una continua sofferenza vede noi l'azienda vuole lavorare vuole produrre cioè non vuole ostacoli nella burocrazia perché tante disposizioni ha ragione tanti arrempimenti non hanno senso ma lei guardi per fare proprio dell'esempio ma lei pensi che abbiamo circa 180 banche dati l'amministrazione finanziaria che noi cittadini noi professionisti continuamente andiamo all'alimentare ma è mai possibile che non vengono utilizzati e continuano a chiederci dei dati covid di due anni hanno dato degli aiuti di stato una serie di bonus quindi l'agenzia delle entrate mi dà il bonus ma le sembra possibile che al 30 di giugno io cittadino io professionista devo fare un'autodichiarazione per dirgli quello che loro ho mandato ecco io questo critico per tutto il resto siamo italiani assolutamente e ti verremo sempre salutarvi la verità sta proprio come sempre nel mezzo noi siamo un paese con tante potenzialità con tante anche con tante situazioni che ancora non riconosciamo è chiaro che bisogna abbattere poi tutte queste barriere per poter davvero riconoscere perché è ovvio se no non le riconosceremo neanche noi perciò partiamo da questa sera insomma lo scopo delle fonti awards è proprio quello di riconoscere le eccellenze più di così cercheremo anzi visto che il calcio unisce tutti se volete fare anche delle ola insomma di tifo a noi va bene giusto possiamo farlo quindi ci vuole l'inno italiano magari lo cantiamo in chiusura perché no allora intanto io ringrazio Andrea Alessandrini amministratore unico di Novento S.P.A Antonio Gigliotti fondatore e direttore di Fiscal Focus e Norbert Lomer direttore generale di Unicredit Allianza e Assicurazioni per averci portato la vostra esperienza e anche per aver messo un po' di come dire il peperoncino a tutti perché è vero bisogna riconoscere anche i nostri limiti non solo le nostre potenzialità l'abbiamo fatto grazie mille buon proseguimento di serata grazie 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 a voi